Il prossimo tempo. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Siamo giusti, scusate, ma siamo scesi anche di corsa perché abbiamo avuto tutta la mattina videoconferenze. In particolar modo stamattina ho avuto la videoconferenza con il Governo, ma dopo vi do l'aggiornamento di quello che si è discusso. Intanto vi do il bollettino. Il totale dei tamponi sono 3.043.792. Nello specifico vi dico che dei molecolari se ne sono fatti 20.103, ieri, cioè ieri, nell'ultima 24 ore, più 34.535, 34.535 rapidi. Il totale dei tamponi, quindi ieri, nelle 24 ore, ad oggi, 54.638 rapidi. Ieri, nelle 24 ore, quindi ci sono i 34.535 delle ultime 24 ore. La percentuale di positivi sui tamponi è 6,98. Ve lo riassumo così, forse lo focalizzate meglio visivamente. No, sul tampone? Sì, sì, sui tamponi. Peraltro, rispetto a questo, forse abbiamo una tabella che posso darvi, vi do anche una foto, un'istantanea nazionale rispetto a questa percentuale. Forse c'è, scusate, la vedo un attimo così poi vi do... Scusate, un attimo solo... No, no, questo. C'è questo, se possiamo fare la terza tabella, per favore. Ma magari facciamo la terza con la prima, su un fronte retro. Grazie. Perché avevo già una tabella che ieri non vi abbiamo dato sui decessi. E beh, dopo vi dico tutto. Il numero dei positivi dall'inizio è 200.000, ecco, numero tondo, 200.607. Il numero dei positivi, ovviamente nelle ultime 24 ore, ve l'ho detto prima, 3.871, 8,17, scusate, 6,98% dei tamponi. E peraltro, guardate, ormai ho sentito anche in più occasioni il Ministero, ma non per questo motivo, ma c'è stato detto, è in arrivo la definizione di caso e quindi anche il tema della sommatoria, rapidi, più molecolari, viene chiarita, per fortuna, una volta per tutte, perché ci evita quanto meno. Possiamo sicuramente avere purtroppo le cronache in questi giorni che parlano del Veneto, ma almeno che non si vadano con i numeri assoluti, che poi magari sono numeri che hanno altri valori. E positivi di oggi, 94.225, sono esattamente quelli che abbiamo accumulato facendo tanti tamponi. Ecco qua gli altri dati che vi do. Allora, i ricoverati totali in questo momento in Veneto sono 3.317. Nello specifico vi do terapie intensive e area non critica. Allora, in area non critica sono 2.945, quindi meno 6, e terapie intensive sono 3.72, meno 1. Ma come vedete, solo per commentare il dato, come vedete da qualche giorno, forse 4-5 giorni, fra l'altro dottor Rosi poi vi spiego perché è qui, da un po' di giorni, 4-5 giorni, che vedete che giriamo intorno a questo 3.73, 3.72. E questo, vabbè, vi do i dati di oggi, insomma. Morti 5.069, sono 77 morti nelle ultime 24 ore. I dimessi sono 8.935. Allora, arriveranno le tabelle così poi le vediamo assieme e evito di stare qui a parlare di robe che non abbiamo tra le mani. Vi dico solo che come ospedalizzazione abbiamo in questo momento, a ieri mattina, a ieri sera, a dire la verità, 2.727 ricoverati Covid, in area ovviamente non critica. Considerate che qui, attenzione, sono stati tolti i negativizzati da qui. Però a voi interessa un altro dato, che è questo, 7.060, che sono i ricoverati ordinari. 7.060. Quindi in questo momento, in totale in Veneto, abbiamo ricoverate 9.787 persone, delle quali 7.060 pazienti ordinari. I posti letto attivabili sono, sì scusate, attivi, sono 13.820. Cioè abbiamo, sostanzialmente abbiamo letti liberi per 6.036 posti. Qual è il tema? Questa è una tabella che io ho sempre ritrosia a dare. Ve la rispiego. Mi perdoni, ma... Partiamo da ritrosi così ci capiamo. Il totale dei letti è 13.820 in Veneto. Ah, scusate, sì, sì, ho fatto io un errore. Posti letto, sì, giustamente sono più di 13 miliardi. Scusate, ho fatto un errore. Allora, i letti totali in Veneto sono totali occupati... No, scusatemi. Allora, i totali sono 9.787 occupati. dei quali 7.060 non-Covid e 2.727 di pazienti positivi. Noi li cataloghiamo così. I letti totali sono 13.820 in Veneto di cui 6.036 di area medica. Però a voi interessa 13.820. Quindi, quanti letti ci sono liberi? 13.820 meno 9.787. Sì, sì, ho invertito io le cose... Scusate, siccome non ci vedo tanto bene, succedono anche queste robe. Sì, beh, sostanzialmente, giustamente, mi ricordava l'assessore che in una settimana abbiamo ricoverato 270 persone, 76 persone no-Covid e 164 a Covid di una settimana. Quindi noi continuiamo anche con il ricovero. Allora, i temi quali sono? I temi sicuramente sono di forte pressione ospedaliera per cui oggi ho voluto anche... domani verrà l'ingegnere Fattori a parlarvi dell'area non critica. Oggi c'è il dottor Rosi che è il massimo esponente responsabile di questa partita per l'area critica delle terapie intensive in maniera tale che i Veneti possano avere informazioni rispetto ai numeri, ai contingenti di terapie intensive attivate e attivabili, al piano che è stato fatto, a come è stato fatto, a quante sono occupate e quali sono anche le caratteristiche del paziente. C'è anche un'evoluzione, oltre che dell'incidenza percentuale di pazienti in terapia intensiva sui positivi, ma anche un'evoluzione clinica del paziente che non è più quello di tre mesi fa. Non è più un paziente che resta poco, ma insomma dopo il dottor Rosi vi dice tutto. Il dottor Rosi è l'unica persona che ha il termometro a livello regionale perché è colui che fa tutti i piani e controlla, ovviamente, a fianco i direttori generali, il piano delle terapie intensive. Penso che sulla professionalità del dottor Rosi non ci siano discussioni da fare, insomma è sempre stato il suo mestiere, l'emergenza, l'urgenza. Oltre, se è stato colui che per conto del Coam è andato in Sierra Leone due anni fa, tre anni fa, dove sei andato? Un anno fa? Tornato un anno fa. Ha dato vita al 118 in Sierra Leone con 50 ambulanze, quindi gli abbiamo permesso questo periodo, diciamo, di volontariato in Sierra Leone. Se mi dai le tabelle, allora, qual è il tema? Il tema è presto detto. Intanto vi consegno una tabella che ieri, diciamo, non vi è stata data, ma è per errore, le stiamo consegnando. Consegniamole tutte e due. Tutte e due, grazie. Vedete, vi diamo una tabella che non è stata data ieri, quella sui decessi. Più che altro, non so, penso fosse completa la spiegazione di ieri della dottoressa Russo. Guardate quella dei decessi, che vi dà anche una dimensione del posizionamento dei veneti. E questo è corretto. Non c'è nessuna, come si può dire, avete due tabelle, poi c'è l'altra, poi vi dico. Quella sui decessi che avete in un fronte vi dà il posizionamento in base alla percentuale di morti rispetto agli abitanti. Ma scusa, ma quante tabelle stiamo dando? Ho detto due tabelle. No, no, no. Vabbè, ormai c'è, non c'è problema. Avete questa, scusate. Guardate questa in fronte retro, grazie. Sì, grazie Federico. A posto lo stesso. Grazie. Perché poi vi ho dato anche delle cose del dottor Rosi. Allora, la prima tabella che ieri ci siamo dimenticati di dare sono purtroppo riferita ai decessi. La vedete. E vi dà il posizionamento del Veneto in base ai morti Covid su popolazione. Perché capite che i nostri numeri pesano e anche un morto guardate pesa umanamente. Però è altrettanto vero che questo è lo spaccato nazionale in questo momento. Detto questo vi ricordo che sulle mortalità ieri non so se vi è stato detto perché ho voluto anzi dovevo andare anche in videoconferenza perché io non ce l'ho fatta. C'è anche da dire che l'aspetto delle case di riposo è l'aspetto che ci inquieta di più. Ieri io vi ho fatto un accenno al fatto che le misure che abbiamo adottato da quest'estate sulle case di riposo e lo ripeto perché se qualcuno non l'avesse ancora capito lo si capisce maggiormente o non l'avesse percepito diciamo le misure adottate quest'estate sulle case di riposo sono misure assolutamente importanti. Vi ricordo che nelle case di riposo si fa un tampone ai 30.000 operatori ogni 4 giorni un tampone ogni 20 giorni ai 30.000 ospiti oltre a tutte le restrizioni il piano di sanità pubblica è referente diciamo medico anche da parte dell'Ulcio oltre a quello della casa di riposo. Certo è che a onore del vero mi permetto di far notare che queste mortalità giustamente noi ce le abbiamo perché il fenomeno RSA è tipico dei nostri territori in altre parti d'Italia c'è il tema dell'RSA non pesa come da noi c'è il fatto da un punto di vista epidemiologico la concentrazione di una categoria a rischio così importante in diciamo in gruppi diciamo organizzati che sono quelli dei ricoveri ovviamente espone anche di più c'è poco da dire pensate solo che alcune case di riposo hanno anche gli stessi operatori che passano da casa di riposo all'altra quindi se da un lato è un elemento di cura di civiltà di un territorio dall'altro davanti a un virus diventa anche un momento di debolezza questo lo va detto perché non vorrei che qualcuno pensasse che le case di riposo esistano in tutta Italia con questa conformazione ce le abbiamo noi noi ne abbiamo 300 in Veneto RSA abbiamo 300 RSA 30.000 ospiti e 30.000 operatori 4-5 regioni hanno il nostro modello molte regioni non hanno RSA non hanno strutture come e quindi gli anziani restano in casa restano in ricoveri diciamo organizzati da privati ma non hanno la struttura nostra è come dire in un ospedale no? il dottor Rosi che è un medico ci dirà è ovvio che è più in sicurezza uno che viene curato da solo a casa sua che avessi la possibilità di avere lo staff migliore del mondo che uno che deve andare in un ricovero dove ci sono magari 6-700 persone che hanno virus batteri e infezioni ospedaliere o quatt'altro questo volevo dire beh questa è una tabella che poi fate nell'uso che volete io ve l'ho data perché ieri vi siamo dimenticati l'altra sui tamponi è stato fatto dal dottor Bortolan questo questa questa tabella cioè covid casi attualmente positivi sui test e qua avete la tabella vedete cioè non avete le percentuali su scusate avete le tre colonne e avete il dato sul totale e quindi avete anche la dimensione percentuale dell'incidenza sì sì ce l'ho qua perfetto vabbè volevo darvi queste posso? prego non mi è chiaro in questa seconda tabella la colonna relativa ai test eseguiti appunto per il Veneto vede immagino dai dati che leggo la somma tra molecolari e antigenici sì è scritto sotto ma per le altre regioni non ve lo sappiamo dire cioè noi così la costruiamo perché siamo gli unici che si lamentano che vengono sommati i test cioè quindi noi ce l'abbiamo così per questo ve la diamo così quindi non sappiamo le altre regioni dentro cosa ci hanno messo in quel dato infatti abbiamo scritto fonte ISS spiegato sotto dopo per correttezza noi ve la diamo siccome ogni giorno vi è fuori sta storia dei positivi quindi nell'attesa che se c'è qualcuno che deve caricare lo carichi noi vi diamo il nostro dato il nostro dato è 1,7 dopodiché scorrerà in giù o in su in base a come caricheranno quindi diciamo l'unico dato diciamo aggiornato modificato con questa somma è quello Veneto gli altri sono quelli comunicati quotidianamente dall'organismo centrale nel bollettino delle 17 della protezione civile giusto? sì ce n'è anche un'altra che è quella diciamo no questa è quella del postiletto occupato centralmente mi scusi se posso eh sì dall'inizio beh sì noi abbiamo fatto sulla popolazione cioè dall'inizio se volete però il dato noi ce l'abbiamo anche il dato percentuale sui tamponi quotidiano o standardizzato all'ultima no no dico la percentuale nazionale se lo volete quotidiano piuttosto che noi abbiamo anche il dato settimanale o mensile riusciamo a ricostruirlo non c'è problema casomai diciamo dottor sembra una conversazione no è che secondo me lo dico per me almeno primo giornale sarebbe bene avere un dato diciamo così omogeneo rispetto anche a quelli che vengono usati è la lettera che abbiamo scritto al ministero a livello nazionale perché a volte si parla di incidenza positivi su centomila a volte di incidenza positivi su tampone e siccome le percentuali differiscono decidiamo un benchmark ecco grazie questa è una tabella che noi ci teniamo come benchmark ma è un benchmark che io ve l'ho detto tanto è vero che in nota è scritto non è che ve lo dico adesso perché avete fatto voi le domande c'è scritto una nota sotto perché è esattamente la lettera che abbiamo mandato c'è la necessità di avere dati uniformi se non è difficile confrontare dati tra di loro però al di là di questo prego volevi un chiarimento buongiorno non è per farne una questione di lana caprina però siccome la regione veneto continua a fare la sommatoria dei tamponi molecolari dei test rapidi e da questa sommatoria ricava l'incidenza dei positivi sul testing viceversa il ministero della salute valuta soltanto ma c'ha detto di mandarli i test rapidi dal 3 di dicembre però sono settimane che si dice questo calcolo si farà no ma le dico non è una questione formale è una questione sostanziale a me lo dici ma sa perché perché ieri il direttore come lei sa del ministero della salute ha contestato al veneto una incidenza di positivi 18% insomma e la dottoressa Lussola è uscita non è stata smentita certo però allora come è possibile che il ministero della salute non lo so dire tu hai tutte le ragioni del mondo io penso no ma mi sembra guardi ma non è come dire non è un cavillo credo che questo sia un elemento di confusione nell'opinione pubblica nei cittadini perché allora qual è la verità e posso anche aggiungere una roba e noi ne facciamo le spese perché se la colpa è a fare 60.000 tamponi al giorno cioè voi capite se guardate anche la tabella di ieri sera noi abbiamo cosa 3.000 positivi ci sono delle regioni che hanno 40 positivi cosa vuol dire che è una regione pulita poi per vedere i tamponi che hanno fatto ne hanno fatti 400 cioè 3.000 su 60.000 40 su 400 è una percentuale molto diversa per cui guardate noi sul tema dei tamponi diciamo teniamo presente ovviamente i positivi che troviamo anche noi dobbiamo poi standardizzare perché se un giorno ne fai 40.000 un giorno 60.000 devi capire anche qual è il tuo standard per capire l'evoluzione dopodiché sapete questo è il contact tracing il vero tema sono l'occupazione ospedaliere e questo che ci preoccupa è il tema delle terapie intensive voglio anche aggiungere una cosa a qualche volta appunto immagino che qualcuno dica no perché capita anche che lo sentiamo dire no la prima fase è stata gestita bene la seconda fase sta scappando di mano cioè qui non c'è nulla che scappa di mano o meglio mi spiego la prima fase ha avuto esattamente diciamo una condizione di lavoro sicuramente più difficoltosa peraltro non avevamo i dispositivi non avevamo regole di sanità pubblica abbiamo dovuto inventare tutto alla fine poi abbiamo affinato abbiamo pensate siamo passati da 2.150 tamponi dal 21 marzo a 50-60.000 al giorno che facciamo oggi tanto per dire che evoluzione c'è stata però se voi ricordate io ve l'ho sempre detto e qua nessuno mi può smentire vi ho sempre detto guardate che il covid è una questione anche di di fortuna nel senso che attacca dei territori e gli interessa è iniziato nel nord ovest adesso è passato nel nord est e come vedete questo bacino interessato è un bacino importante perché è quello di Trento Friuli Venezia Giulia Veneto Carinzia e Slovenia vi dico questo perché voglio sempre ricordare che dall'altra parte c'è la natura magari fosse così facile decidere il corso della storia questo ciò non toglie che la sanità la sanità sta rispondendo io ringrazio tutti i nostri operatori i medici infermieri gli os tutti coloro che lavorano nel mondo della sanità perché in questo momento la pressione è alta avete visto abbiamo una bellezza di 9.000 ricoverati e e con anche le contrazioni le le necessità che abbiamo poi il dottor Rosi vi darà uno spaccato ad esempio di quello che sono le necessità per le terapie intensive le terapie intensive non sono un jukebox le terapie intensive che abbiamo programmato e io vi ho sempre detto andate a prendervi le mie dichiarazioni io ho sempre detto guardate che quando arriveremo a 1.000 terapie intensive vuol dire che avremo cos'è che vi ho sempre detto la sanità orientata su Covid per questo l'appello alle misure è un appello scusatemi ai comportamenti e all'attenzione che chiediamo ai cittadini è un tema per noi importante perché l'unica elemento differenziale che oggi si può inserire in questo piano di sanità pubblica è la collaborazione con i cittadini allora noi questa mattina abbiamo avuto la riunione con il governo è iniziata alle 8 e mezzo è finita alle 11 e mezza è stata una riunione importante è stata una riunione nella quale tutti noi governatori abbiamo espresso le nostre convinzioni io vi dico cosa ho detto io nel senso poi gli altri non trovo corretto darvi un bilancio di cosa hanno detto gli altri che più o meno diciamo hanno avuto delle posizioni simili qualcuno con qualche distinguo la posizione del Veneto è stata chiara nel senso che nel mio intervento ho detto guardate noi abbiamo necessità comunque di avere diciamo delle misure di adottare delle misure come Veneto e ho anche detto guardate noi abbiamo anche necessità di capire se si chiude questa partita nazionale se no le adottiamo direttamente visto considerato che il fine settimana si avvicina c'è una è incontrovertibile che questo periodo è un periodo particolare è incontrovertibile che ogni azione deve essere supportata dai ristori diciamo il vantaggio della misura nazionale è rappresentato e qui il governo ha diciamo rassicurato su questo fronte che eventuali misure nazionali comunque sarebbero accompagnate anzi il ministro Boccia anche detto che aveva sentito il ministro Gualtieri sarebbero comunque accompagnate da misure ristorative e io penso che noi avremo ho detto stamattina a gennaio avremo una congiuntura astrale che non è molto positiva per fortuna gli archivi digitali manterranno storicamente tutte le nostre dichiarazioni io ve lo sto già dicendo da un po' cioè il 7 gennaio noi dovremmo aprire la scuola fare la più grande campagna vaccinale che peraltro oggi annuncio è stato annunciato che probabilmente si fa i primi di gennaio forse ci sarà anche qualche timido timida apertura per fine dicembre perché l'EMA ha anticipato la sua decisione al 21 dicembre non più al 29 quindi avremo la più grande campagna vaccinale della storia noi avremo 200.000 prime vaccinazioni da fare fra l'altro più o meno vuoto per pieno sono 194.000 avremo l'apertura della scuola avremo il covid il covid non ci avrà abbandonato avremo la sindrome influenzale quindi avremo anche tutto quello che sarà l'influenza voi capite che se noi arriviamo all'appuntamento del 7 gennaio con una situazione dove tutti questi fattori si incrociano in terreno di battaglia devastato noi non ne veniamo fuori pensate solo un aspetto che il personale che dovremmo utilizzare per la campagna vaccinale in maniera importante è comunque il personale della macchina sanitaria e pensate solo che se avremmo ancora peso di covid è lo stesso personale che comunque dovrà essere occupato per il covid e se arriverà l'influenza dovrà essere lo stesso personale che comunque dovrà essere occupato in parte anche per l'influenza nei ricoveri nelle cure territoriali e comunque poi avremo il tema delle scuole che ci impegneranno sicuramente sul fronte del contact tracing perché se ci sarà un positivo bisogna uscire nella classe andare a testare e ricostruire i contatti e così via quindi il tema di valutare che in questo periodo diciamo di periodo natalizio ci sia la possibilità di pensare a delle restrizioni diciamo regionali o nazionali è un tema reale quindi noi abbiamo dato disponibilità ad affrontare con il governo un eventuale errore il governo sta pensando a una restrizione nazionale ovviamente perché giustamente si pone una questione si parla si calcola che ci siano milioni di persone che durante le vacanze natalizie ad esempio si muoveranno da nord a sud primo tema si parla e si dice che comunque le movimentazioni aumenteranno e quindi si rischierà di trovare un unico un unico vaccino epidemiologico in virtù delle molte movimentazioni di questo periodo c'è dall'altro tema degli operatori che sono da tutelare con ristori reali ma questi non competono alla regione perché sono temi nazionali sui quali noi ovviamente chiediamo garanzie allora ci siamo riaggiornati con questa con questa scaletta il governo aveva una sua diciamo riflessione interna alla volta delle 12 e 30 di oggi mentre vi sto parlando stanno facendo una riunione domani mattina probabilmente anche stasera magari accadrà qualcosa che ci rincontreremo io ho chiesto che comunque ci sia una misura che esca alla volta di stasera domani se la vogliono se hanno deciso di farla se no proveremo ad adottare una soluzione diciamo tutta regionale considerate che nelle condizioni di fare questi discorsi ci sono più regioni anche regioni che hanno avuto aree arancioni cioè non solo regioni da aree gialle e domani c'è la conferenza dei presidenti la conferenza stato-regioni e è già stato annunciato un ultimo incontro col governo diciamo di chiusura di questa partita quindi questa partita se non si chiude stasera si chiude domani secondo crono programma che si sono dati coscienti tutti del fatto che una misura diciamo di già di esordio per il primo fine settimana sicuramente debba essere adottata ve lo dico poi anche perché qualcuno parla di area arancione vorrei ricordare che l'area arancione rappresenta sostanzialmente la chiusura del confine comunale no vi do lo spaccato di quello che è oggi no e vi dico cosa sarebbe sarebbe la chiusura di bar e ristoranti tutto resta aperto comprese le attività produttive e dal confine comunale si esce per motivi di lavoro di salute di fare la spesa tutte le storie non vorrei che qualcuno avesse ipotizzato che l'area arancione preveda chissà quali restrizioni lo dico perché chi dice che l'area arancione è stata sanificante per alcune realtà non è proprio così infatti l'esempio del Friuli Venezia Giulia non è una realtà nel senso che dall'area arancione a quella gialla la differenza è la chiusura del confine comunale ma non degli spostamenti agganciati alle attività produttive al lavoro eccetera per cui fondamentalmente queste sono restrizioni oltre alla chiusura questo è vero dei bar e dei ristoranti ma tutte le altre attività produttive commerciali restano aperte questa è la situazione signori questa è la situazione e quindi noi adesso immagino conoscendo un po' le dinamiche di queste riunioni immagino che prima di sera qualcosa accadrà rispetto a magari un eventuale altro incontro e domani da come è stato impostato oggi vedrete che ci sarà la chiusura nel senso che c'è la chiusura di questo tema i presidenti c'erano tutti più o meno tutti non tutti e comunque tutte le ragioni sono intervenute con magari sfumatore diverso però il riconoscimento del fatto che ci vogliono i ristori e che comunque delle misure siano da adottare insomma è abbastanza stato un unico un unico minimo comune denominatore per tutti gli interventi io non aggiungerei altro se avete domande prima di passare la parola a dottor Rosi oggi si era prenotata davvero per prima la Marchiori poi Tosatto Pederiva Prigioni Bone Emiliano Emiliano scusa ma ti metti sempre lì buongiorno sì buongiorno presidente mi scusi a proposito di questa riunione quando cioè è vero che lei avrebbe detto nel corso di questa riunione di pensare a misure da zona rossa a livello nazionale ovviamente poi a livello anche regionale e se sì quali sono le misure che lei immagina a livello nazionale e poi guarda non siamo entrati nello specifico abbiamo abbiamo semplicemente fatto un'analisi di quello che sono ovviamente i problemi i problemi sono evidenti sono sotto gli occhi di tutti anche se qualcuno continua a negare che ci siano problemi evidentemente gli ospedali sono troppo distanti quindi non si vedono non si sentono e quindi non si percepiscono il vero tema è che noi abbiamo l'obbligo di porre la questione è una questione reale è una questione che ci preoccupa perché gli ospedali hanno un punto di tenuta oltre il quale non si può andare anche qui questa sanità è una sanità poi lo dirà il dottor Rosi che ancora oggi accoglie tutti vi ricordo che abbiamo quanti sono i totali delle terapie intensive oggi? totale? 500? abbiamo 587 persone in terapia intensiva in una regione che mediamente ne aveva poco più di 200 quotidianamente e sono tutti assolutamente assistiti e hanno tutti avuto la garanzia di avere un carico in terapia intensiva per cui noi abbiamo parlato fondamentalmente della situazione abbiamo parlato di misure restrittive e soprattutto anche c'è stato fatto un riferimento al tema della Germania che la Germania rischia di essere l'unica comunità in Europa che arriverà il 10 di gennaio con le curve appiattite con gli RT diciamo frutto di un lockdown la Germania vorrei ricordarvi che non ha adottato un'area rossa l'area rossa significa confine regionale chiuso confine comunale chiuso attività produttive aperte chiusura dei negozi e dei bar e dei ristoranti però comunque non è il lockdown che abbiamo fatto noi l'area rossa è un'altra roba Germania invece va di lockdown da oggi fino al 10 di gennaio immaginate come arriverà all'appuntamento anche della vaccinazione altro aspetto che non movimenta poche persone quindi questa è la situazione ecco lei quali tipo di chiusure eventualmente ipotizzerebbe o di restrizioni? noi le stiamo affrontando adesso con il governo nel senso che immagino che nelle prossime ore le definiremo staremo a vedere mi sembra di capire che ci sia una base di lavoro che è quella del fine settimana per poi passare al periodo natalizio cerchiamo di capire in questa fase non vogliamo neanche introdurre elementi come si può dire di nuova confusione perché comunque non servirebbe nel tavolo al tavolo ma neanche i cittadini che si troverebbero ogni giorno notizie diciamo notizie nuove ormai è questione di ore vedremo di capire quale sarà la soluzione bene grazie prego allora Tosatto Pederiva Prigioni Bonet ed Emiliano sì buongiorno buongiorno io condivido appieno l'invito a evitare la confusione di messaggi ce ne sono tanti contrastanti ieri è stato fatto notare è stata fatto notare come dire la stranezza anche di questa campagna del cashback da una parte si invita a spendere dall'altra a non affollare i negozi mi pare una ridicolaggine ma anche lei se mi consente però come dire rispetto alle ultime settimane potrebbe dare l'impressione di essere stato folgorato sulla via di Damasco nel senso che io ricordo che ci diceva non possiamo permetterci un lockdown insieme ad altri ha fatto una battaglia al tavolo con il governo per l'apertura delle piste di sci l'impressione è che lei ritenesse che questa fase potesse essere affrontata senza restrizioni particolari adesso lei stesso parla di misure insomma di misure sostenute perché ha cambiato atteggiamento ma sai se io leggessi i tuoi articoli è ovvio che nel tempo c'è un'evoluzione della dinamica c'è da qui a giugno accadrà di tutto cioè qui non è che non abbiamo ben chiaro cosa sta accadendo veniamo alle piste da sci le piste da sci andate a prendervi le mie dichiarazioni io ho detto guardate che la misura ha un senso dal punto di vista epidemiologico sia una misura condivisa con altri territori perché se no c'è che senso che noi garantiamo la migrazione cioè di di persone fuori territorio che poi tornano a casa ci portano a casa dalle piste da sci degli altri il virus tanto per dirne una dal punto di vista epidemiologico noi abbiamo sempre avuto chiaro qual è il tema di questa emergenza come abbiamo anche sempre detto che un lockdown non ce lo possiamo permettere il lockdown che conosciamo lo sappiamo tutti ma lo stesso governo ha portato avanti questa idea prova ne sia che le fasce le tre fasce vorrei ricordarlo nascono per evitare il lockdown ve l'ho detto due istanti fa guardate che la zona rossa non è il lockdown c'è un'altra roba c'è il lockdown eravamo chiusi in casa addirittura con i 200 metri per fare due passi la zona rossa è che tu nel tuo comune giri dove vuoi esci anche dal comune e sei motivi per uscire dal comune questa quindi quello ha il senso delle dichiarazioni io vi invito anche a darsi una mano a fare in modo che dopo tutto questo rimbalzo di dichiarazioni non diventi sempre avete capito c'è del premio nobel del social che comincia a dire questi cambiano continuamente idea questa è la situazione l'alternativa sapete qual è il ragazzo ma ve lo dico col cuore in mano ma io non lo voglio fare chiudiamo la conferenza stampa di ogni giorno facciamo un comunicato come fanno i miei colleghi diventa monocratico diventa unidirezionale avete tre dati del bollettino un commentino e finite lì a me non sembra corretto nei confronti di Veneti però allora vi chiedo anche come si può dire la correttezza l'aiuto di capire che ogni giorno che mi sentite io vi do il mattinale vi do il bollettino di giornata con il commento se il principio è approfitto della tua domanda di dire dieci giorni fa vi ho detto questo otto mesi fa vi ho detto questo ragazzi non ci siamo più non ci siamo più perché ci costringete a dover dire vabbè ma se il tema è capite che quando veniamo qui tutti i giorni noi veniamo qui con il cuore in mano diciamo ragazzi questi sono i numeri questa è la strategia di oggi ve lo dirà il dottor Rosi cioè dottor Rosi se fra una settimana abbiamo 100 o 200 persone in più in terapia intensiva non è che possiamo andare a prendere le dichiarazioni di Rosi di oggi noi non sappiamo cosa accadrà da qui alle prossime 24 ore tutti i giorni cioè stiamo parlando di un rapporto con la natura cioè non è che abbiamo certezze qui di certezze non ne ha nessuno magari avessimo uno che ha le certezze sarebbe la persona più ricca del mondo non ne ho approfittato per dire no 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 ma guardi forse sono io che ho espresso la cosa in modo grossolano non mi stupisce affatto che lei aggiorni il suo atteggiamento e il suo approccio sarebbe sorprendente al contrario vorrebbe dire che non insomma che non prende atto delle delle novità dell'evoluzione della situazione la domanda era riferita ai motivi ultimi che l'hanno indotta a cambiare l'idea mi consenta l'ultimo l'ultimo accenno e l'ANSA oggi stamattina ha battuto la notizia secondo cui lei sarebbe favorevole sarebbe dichiarato favorevole nell'interlocuzione con il governo ad un Veneto in area rossa nelle festività natalizie se è così io davvero la inviterei a esternarlo con grande chiarezza perché sarebbe un segnale chiaro univoco se è così io non ero presente alla riunione ma non c'era neanche l'ANSA la riunione aspettate qualche ora e vedete ho la domanda ma anche io cerco di essere più netto cioè siccome è chiaro che ci sono come due partiti tra virgolette cioè gli ultra rigoriste Speranza Boccia alcuni del CTS e quelli invece più aperturiste i Renziani il Ministro Bellanova lei a quale squadra dobbiamo ascriverla? No guarda io penso che non sia una questione di squadre ma penso anche non dubito della vostra intelligenza che abbiate capito che noi siamo della squadra di quelli che fanno in modo che gli ospedali non vadano in collasso e che i cittadini non si riescano più a curare e quindi in questa fase a noi le restrizioni servono come ho anche detto guardate ne ho parlato anche del professor Silvio Brusaferro che anche con sta storia perdonatemi ma ve lo debbo dire sta storia dell'area gialla siamo due regioni in Italia se non sbaglio che sono sempre state in giallo noi e il Lazio allora se stabiliamo delle regole del gioco chiamiamolo gioco no? della classificazione fatto da illustri scienziati cioè non è che adesso cioè anche i Veneti si hanno fatto per sei settimane otto settimane di zona gialla adesso non è che come si può dire dopo che hai avuto tutte le facoltà di muoverti sul territorio adesso dici la colpa della zona gialla cioè non è che come si dice tu esci di casa col portafoglio pieno torni a casa squadrinato dove te sei giocati tutti a casino e dici è colpa di chi mi ha dato i soldi e dico semplicemente cosa sostengo io che anche gli algoritmi se non funzionano anche perché per noi diventano base giuridica capite che nel momento in cui ho una classificazione epidemiologica con delle misure non è che posso qualcuno potrà mi dire ma perché fai un'area di un altro colore se la tua classificazione è quella e allora dico magari forse vale la pena anche di mettere mano alle classificazioni cercate di aggiustare gli algoritmi perché c'è stata una fase di crescita e adesso la fase di decrescita delle curve forse ha bisogno di un adeguamento dell'algoritmo perché è una fase ancora più delicata di quella di crescita quindi la mia posizione è che davanti a questa situazione sicura ma ve l'ho detto l'altro giorno ancora lunedì ce vanno adottate delle restrizioni e noi abbiamo atteso semplicemente perché se è nazionale abbiamo più tranquillità sui ristori e siccome il nostro come si può dire l'appuntamento con la storia è il fine settimana perché vi ripeto se oggi fosse zona gialla qui fuori vedreste quei lavoratori che sono lì fuori che stanno lavorando vedreste comunque la città con questo traffico perché è di lavoratori non penso che ci sia gente che va in giro per le strade così per guardare i palazzi cioè questa è la zona gialla cioè non vorrei che qualcuno pensasse che fosse qualcosa di diverso la zona arancione scusatemi perché a volte vedo delle narrazioni sulla scelta della zona arancione che sembra che che sia l'invertire il paradigma della della libertà nei territori non è proprio così serve è utile ma vorrei ricordare che lo scenario è questo avete altre domande o posso la parola a Rosi? Eh no abbiamo Pederiva, Prigioni, Bonnet ed Emiliano purtroppo ancora è lunga mi dispiace di essere una prima di questa serie dei purtroppo no è perché abbiamo le riunioni su tutto qua no no siamo qui per voi fate tutte le domande che volete stemperiamo perché il tema che le devo proporre invece non è affatto divertente presidente buongiorno e anche l'assessore Lanzarina è il tema della sofferenza del personale sanitario nel senso che registriamo quotidianamente disagio umano e professionale badate che non mi sto riferendo a polemiche sindacali ma veramente a contatti anche molto personali con operatori che incontriamo tutti i giorni dovendo purtroppo anche frequentare quel tipo di strutture che tipo di margini ci sono di intervento a sostegno del degli addetti anche in vista del gennaio molto bollente che lei prima ha preannunciato presidente lo chiedo in riferimento al fatto che i 15.000 vaccinatori previsti dal bando del commissario straordinario Domenico Arcuri i 3.000 medici e i 12.000 del comparto a quanto pare non arriveranno per la prima chiamata vaccinale e già su questo sarà un grosso punto di domanda che margini ci sono quindi anche di ingaggio anche temporaneo di personale che possa andare a supportare quello che già sta lavorando con ritmi massacranti no grazie per la domanda allora venerdì abbiamo già programmato dove era qui la dottoressa Simionato perché è giusto anche sfatare un'altra narrazione no perché mi metto nei panni del signor Rossi che è a casa guarda e dice ma assumete un po' di persone no un po' di medici qua li mettono di là un po' di infermieri perché c'è tanta pressione intanto il personale sanitario ha tutta la mia comprensione e solidarietà perché comunque da un'attività ordinaria gestibile siamo passati ad un'attività straordinaria dove c'è pressione con pressione fisica anche psicologica quindi però ho chiesto proprio stamattina in riunione neanche a farlo opposto alla dottoressa di venire il resoconto di tutti i bandi di ricerca di personale di tutto quello che abbiamo fatto anche perché guardate quando noi facciamo le riunioni con i colleghi governatori il motivo è questo non c'è mercato cioè se qualcuno ha motivo di dire non è vero lo dica e verrà assunto perché noi continuiamo a fare bandi arrivano arrivano poi la dottoressa vi spiegherà vi darà i dati e il problema della ricerca è un problema è un grosso problema confermate che per il reclutamento dei vaccinatori non se ne parla prima di quando cosa è che vi dice Arcuria il reclutamento dei vaccinatori per noi sono numeri che ci hanno annunciato ma non buono Arcuria ha detto che nella prima fase proprio non se ne parla potrebbero arrivare se ci sono eccetera a febbraio inoltrato comunque noi nel nostro piano che abbiamo ne parlavo la dottoressa Russo lei dice che in un paio di settimane dovrebbe resti gli atti il condizionale abbiamo anche i freezer già comprati le siringhe guardate sembrava facile un paio di settimane dovremmo riuscire a vaccinare i 194.000 considerate che vi dico il condizionale perché poi dovremmo capire anche quali saranno le difficoltà noi abbiamo già i 6 freezer acquistati e quindi garantiamo la catena del freddo col ghiaccio secco e tutta la procedura hanno fatto già più incontri più riunioni quindi noi siamo pronti se arrivassero prego no no ma questo materiale in più comprato sì sì assolutamente e quindi capite che se se arrivasse anche prima noi siamo attrezzati per riuscire a partire prima considerate che noi a differenza di tante regioni abbiamo l'anagrafe vaccinale e questo è un vantaggio non da poco ci arriva il cittadino vaccinarsi si digita è già caricato nella nostra anagrafe vaccinale e quindi avrà ovviamente una sessione nuova che è quella del covid quindi voi troverete nelle vostre vaccinazioni anche il covid e poi no voi chi lo farà perché è volontario ricordiamolo e abbiamo prigioni poi bonnet e poi emiliano buongiorno presidente buongiorno a tutti buongiorno al netto di tutte le valutazioni tutti i numeri si può dire che il covid in questa chiamiamola seconda ondata ottobre novembre sta colpendo più pesantemente rispetto a marzo che se senza tutto quello che avete fatto probabilmente avremo uno scenario drammatico ancora perché è un po' questo l'elemento di rimente buongiorno innanzitutto ringrazio per questa lettura perché purtroppo è la lettura di pochi in queste ore perché passa il concetto che il covid è qualcosa che comunque tu puoi governare senza se e senza mai non è così guardate io l'avrò detto penso in tutte le mie interviste di marzo di aprile quando mi chiedevano la Lombardia dicevo sempre guardate la Lombardia ha avuto una sventolata di virus da paura la Lombardia dopo due giorni dal primo caso si è ritrovato gli ospedali già al collasso ce ne ha avuti tanti di pazienti e ovvio diciamo che le misure messe in campo non a caso facciamo 60.000 tamponi prima ne facciamo 2.000 quindi a fase di test e di isolamento il rafforzamento delle microbiologie il tema delle terapie intensive con il piano e altro ci permettono oggi di avere 570 malati in terapia intensiva che un anno fa sarebbe stato impensabile avere questo è quello quindi una sanità che ancora risponde oggettivamente ma se noi avessimo avuto questo carico a marzo non avremmo tenuto come adesso a marzo eravamo veramente gracidi e deboli quando siamo partiti il 21 febbraio se noi ci fossimo se dopo un mese avessimo avuto 570 persone in terapia intensiva è vero che ne avevano 356 nel picco di marzo più gli ordinari però sui ricoveri saremmo andati in tilt perché noi avremmo avuto a marzo 3.000 ricoveri sarebbero stati 3.300 non era una roba da scherzare grazie e Bonet e chiudiamo con Emiliano Bonet passa Emiliano così liberiamo il Presidente passiamo a Rosi Presidente buongiorno buongiorno a tutti voi ha già anticipato insomma varie dichiarazioni la questione appunto dell'annuncio dell'EMA le chiedo quindi mi rimane soltanto da chiedere oltre all'organizzazione se l'Italia ha la speranza di essere inserita quindi prima di gennaio nell'arrivo dei vaccini e le chiedo direttamente visto il suo ruolo se il Veneto quindi è effettivamente organizzato su tutti i piani guarda le informazioni quello che è dato a sapere come si dice in questi casi è che EMA dovrebbe dare il suo parere il 21 di dicembre a quel punto parte tutto un domino che si traduce nello scaricare i vaccini in Veneto e cominciare a vaccinare noi siamo assolutamente pronti per farlo abbiamo fatto un sacco di riunioni la dottoressa Russo ha coordinato essendo lei la responsabile delle vaccinazioni in Veneto ha coordinato assieme all'assessore un po' tutta questa fase dopodiché si parte abbiamo fatto un incontro con le RSA abbiamo fatto un incontro con le RSA ecco vedete il vantaggio ad esempio avendo noi come regioni le RSA se sono un problema purtroppo con il Covid perché sono degli assembramenti di anziani e quindi più esposti a rischio dall'altro abbiamo il vantaggio che entriamo in un RSA e riusciamo a fare una campagna vaccinale molto più veloce su almeno 30.000 persone perché sono già in contesti nei quali noi riusciamo ad andare a vaccinare immaginate se non le avessimo dovremmo andare per le famiglie abbiamo chiesto l'ho chiesto io personalmente ad Arcuri siccome c'è un grosso punto di domanda diciamolo fino in fondo su quanti si vaccineranno noi abbiamo fatto le nostre categorie RSA dipendenti lavoratori cooperative esterni e anche per gli ospedali stessa roba i dipendenti i lavoratori ma anche quelli il lavoratore della cooperativa che lavora il CUP piuttosto che le pulizie la possibilità di vaccinarli fa 194.000 mi sembra 200.000 fatelo 194 al dato se poi di questi i 10% il 20% il 30% non vorrà vaccinarsi considerate che il bugiardino ci viene inviato oggi ma in inglese quindi lo diffonderemo in inglese vedremo di tradurlo se qualcuno non si vaccina io ho chiesto che ci venga data la facoltà in maniera visibile di provvedere alle vaccinazioni degli over 70 agli over 80 andremo per categorie che non sono nel RSA perché non è neanche giusto che l'over 80enne che è ancora a casa e non è in una casa di riposo non abbia diritto ad essere vaccinato cioè non dimentichiamoci che in casa di riposo non ci sono tutti gli anziani del Veneto sono 30.000 gli altri sono a casa vivono da soli hanno ancora vita autonoma altri sono con i figli questi hanno diritto ad essere vaccinati quindi io spero e l'ho chiesto mi hanno garantito che lo faranno che il risparmio di dosi non diciamo utilizzate venga dedicato da noi in Veneto verrà dedicato partiremo dagli ultra 80 e verremo in giù anche perché l'età media nei decessi oggi è tra gli ultra 80enni cioè 75-80 anni le posso chiedere una cosa di pancia proprio di personale io non riesco a capire da cittadino e da giornalista il perché di questo tira e molla insomma decisionale quindi torno alle famose restrizioni o meno le scelte del governo e delle regioni è dettato per una tutela effettiva del commercio quindi di tutto questo mondo o c'è anche di fondo paura di una reazione di piazza come abbiamo visto tempo fa è accaduto in campanile guarda chiedo direttamente questa cosa io capisco capisco fino in fondo chi protesta le preoccupazioni ma figuriamoci però quando io lunedì vengo qui e vi dico sono venuto qua vi ho detto guardate bisogna provvedere a delle restrizioni dopodiché lunedì in giornata esce questo dibattito nazionale stanno pensando delle restrizioni nazionali sono venuto martedì e vi ho detto guardate a me sembra logico che davanti alla possibilità di avere una restrizione nazionale con i ristori sia migliore di una restrizione regionale con un punto di domanda sui ristori vi ricordo lo diciamo a quelli che dicono che noi non abbiamo coraggio di adottare nulla che noi abbiamo adottato restrizioni con l'area gialla che non erano obbligatorie ce le siamo inventate noi abbiamo chiuso tutti i negozi da domenica tanto per citarne una il numero di clienti per metro quadrato un cliente ogni 20 metri quadri la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita che il DPCM ci lasciava aperte allora noi abbiamo e sapete che dibattito è venuto fuori sui ristori ecco avete visto lunare a volte allora alla luce di questo e siccome il nostro appuntamento è inizio dal fine settimana perché poi quello che si vede oggi è sostanzialmente una situazione non di assembramento abbiamo detto attendiamo tanto è vero che oggi ho detto guardate che io non arrivo a sabato senza soluzioni quindi se il governo adotterà una soluzione prima di sabato noi ci siamo assolutamente a sostenerla se non la adotterà ma l'ho detto in riunione il governo provvederà autonomamente cosa volete che vi dica cioè non è un tiramolla ti ringrazio per la domanda è semplicemente un fatto di tutela estrema ma che che poi qualcuno dica che il provvedimento arriva da Roma no perché comunque il provvedimento comunque noi lo adotteremo sia chiaro questo ma l'ho detto l'ho detto già da lunedì ragazzi non fatemi dire tutti i giorni le stesse robe dopo anche l'obbligo di portare a casa il massimo possibile per le imprese ragazzi perché qua fanno tutti gli eroi come ho detto l'altro giorno ma con il portafoglio degli altri fratto non è che è un periodo degli acquisti delle spese quindi mi metto anche nei panni di chi magari investito per avere un magazzino pronto che si ritrova tutto chiuso c'è una situazione tragica c'è un ultimo tosatto mi pare è una marchiori non voglio tediarla oltre no sono qua sono a vostra disposizione la prospettiva è arancione la prospettiva è nulla nel senso guardate siccome il governo non sta decidendo assieme a noi abbiate la pazienza di vedere quale sarà la decisione unanime inutile che io butti lì colori o ragionamenti che rischiano anche di disturbare di creare confusione non è corretto nei confronti dei cittadini però ecco dateci una mano a far capire che questi non sono atti come si può dire di persecuzione perché vedo che più di qualcuno la prende come perché il giorno che dici che chiudi hai tutti quelli che dicono che è sbagliato il giorno che non dici che non chiudi hai tutti quelli che scrivono che dicono che bisogna chiudere tanto è vero che anche stamattina ho detto il mondo è spaccato a metà ormai il problema è che di mezzo abbiamo gli ospedali che vanno al collasso se si continua così e quindi per me viene prima la sanità perché non voglio ritrovarmi davanti un paziente che mi dice che non è stato curato Marchiori ecco Presidente mi scusi è una domanda che guarda un po' più in là però se l'incidenza dei veneti che dovrebbero vaccinarsi fosse molto bassa che cosa si farà? se rientra in una prerogativa personale la decisione della vaccinazione considerate che poi c'è un tema faremo dei bollettini nei quali ci sarà scritto ricoverati per covid vaccinati e non vaccinati perché voi sarà la prima roba che mi chiederete ma si può sapere se erano vaccinati o no è inevitabile non ve lo so dire guardate adesso al di là di questi esempi che lasciano il tempo che trovano io spero che la copertura vaccinale sia tale per cui si raggiunga l'immunità di greggia perché se altrimenti è un problema vuol dire che il virus continuerà a circolare e a far danni va bene va bene grazie sempre su questo presidente state pensando a delle campagne informative anche a livello regionale per esempio vedo che tanti dicono Zaia e la squadra degli assessori dovrebbero vaccinarsi tutti in diretta ci sarà qualcosa di questo tipo guarda a di là di queste robe qua vaccini sì vaccini vedo vedo un grande sprint allora prima la casta non deve mai vaccinarsi per prima perché mancano i vaccini dopodiché guarda io non c'ho cosa sì no no il vero tema è che noi abbiamo delle categorie alle quali dobbiamo assolutamente garantire il vaccino cioè pensate ai nostri anziani a tutta questa gente cioè guardate che non è una questione da poco perché è una questione di vita o di morte perché se è vero che il vaccino funziona agli anziani gli garantiamo la copertura anticorpale capisco questi qua sono temi un po' delicati però insomma siamo in un paese nel quale davanti a sta tragedia si discute ancora dei vaccini io vi lascerei al dottor Rosi avete altro ragazzi io non ho altre prenotazioni ok vi ringrazio molto abbiate ancora un attimo di pazienza vi lascio al dottor Rosi che vi darà anche una brochure in modo tale che abbiate i dati fate nell'uso che volete però noi abbiamo l'obbligo di dire come stanno le robe non posso accettare che si legano discorsi secondo i quali abbiamo numeri farlocchi secondo i quali noi siamo stati in zona gialla perché abbiamo taroccato numeri o altre robe perché guardate non è proprio così e comunque i dati sono ufficiali ho detto al dottor Rosi che è stato sempre efficientissimo che vi darà anche uno spaccato di cosa significa una scheda di terapia intensive sappiamo il posto del letto dove c'è o dove ci sarà la terapia intensive prego grazie buongiorno grazie se riesci a piazzare il pc in mezzo a quella selva temo di no ma insomma ti basta ok basta prego dottor Rosi perché sto facendo un danno no mi serve solo per non dirvi i numeri a caso perché tutti i miei non riesco a ricordarli allora partiamo da quest'ultimo aspetto dove sono e quanti sono i letti di terapia intensiva di tutto questo c'è traccia negli atti formali e nelle delibere della giunta regionale partiamo già da maggio dal 5 maggio DGR 552 che ha creato il primo piano di emergenza ospedaliero per la risposta al covid dove si parte dalla dotazione ordinaria dei 500 erotti posti letto di terapia intensiva che abbiamo stabili e ci si va ad aggiungere i posti letto ad attivazione Creu 191 posti letto ad attivazione Creu sono dei posti letto sempre pronti allestiti in dei locali che sono tenuti chiusi quindi vuol dire che c'è un letto con il suo ventilatore i suoi monitor le pompe siringa vi ricordo che un letto di terapia intensiva non è solo il ventilatore perché ci vogliono anche le pompe da infusione ci vuole il monitoraggio la centrale di monitoraggio quindi tutto quello che ci va dietro tutti questi letti sono belli pronti basta aprire la chiave e mettere il personale dentro oltre a questi ne sono stati identificati altri 90 che si chiamano riconvertibili cosa vuol dire che i letti in questo caso stanno in un magazzino con tutto il materiale relativo monitor eccetera e vengono installati in genere in un tempo che va dalle 24 alle 36 ore in dei locali che vengono liberati da attività che sono sospese con la TGR 552 arrivavamo a 840 letti terapia intensiva nella prima fase siamo arrivati ad averne attivi quasi 700 697 per attivo intendo che il letto è installato e c'è il personale assegnato pronto per ricevere il paziente no questo detto a marzo siamo arrivati a questo numero nel picco dell'epidemia ma la TGR di maggio andava oltre questo numero e si poneva già 840 poi l'altro successivo è stato è stata la TGR 782 del giugno di giugno di quest'anno che parte dal decreto 34 che è quello che identifica tutta una serie di obiettivi per le regioni tra cui l'innalzare i posti letto di terapia intensiva a 014 posti letto per 1000 abitanti questo è un intervento strutturale che richiedeva la creazione ex novo di posti letto in questo caso la delibera che poi è stata trasmessa al ministero per gli atti successivi per questi letti vanno realizzati diciamo da arcuri come si dice quindi vanno finanziati e realizzati dal governo erano 211 letti in più chiaramente in questo pacchetto dove c'era tutto c'era anche l'ampliamento di organico perché 211 letti stabili vuol dire aumentare stabilmente gli organici di 150 intensivisti e di oltre 600 infermieri per poterli gestire in pianta stabile quindi noi abbiamo calcolato 211 posti sulla popolazione venete presente che siccome questi letti erano parte del programma da realizzarsi da arcuri noi non li abbiamo identificati dove ci vogliamo mettere i letti riconvertibili perché altrimenti il rischio era che noi avevamo i pazienti dentro e poi arcuri non poteva fare i lavori quindi in questo caso sono stati individuati degli altri spazi dove si possono cominciare i lavori in qualsiasi momento senza minimamente ridurre il numero di posti letti effettivamente disponibili ad agosto il 6 agosto considerato che il piano arcuri non avrebbe potuto trovare realizzazioni in tempo per una possibile seconda ondata è stata fatta un'altra delibera che è la 1103 che è il piano emergenziale per l'autunno dove andiamo in questo caso a riprendere i 191 letti creo i 90 riconvertibili e ci aggiungiamo altri 160 letti che derivano come peraltro richiesto al Ministero dalla riconversione di letti subintensivi cosa vuol dire questo? vuol dire che di 300 eventi letti subintensivi li abbiamo attrezzati in modo diverso normalmente un letto subintensivo ha un ventilatore da terapia subintensiva vuol dire che fa quella che si chiama la ventilazione non invasiva ma noi ogni due letti abbiamo messo un ventilatore da terapia intensiva che vuol dire che fa sia la ventilazione non invasiva ma ventila anche i pazienti intubati di conseguenza questi letti sono attrezzati per poter ospitare anche pazienti che richiedono in terapia intensiva con questi 160 letti arriviamo ai famosi 1000 con la DGR 1103 rispetto alla 552 noi andiamo a dire anche dove li mettiamo cioè individuiamo ospedale per ospedale dove vanno messi questi letti però per dettagliare ancora l'operazione a settembre è sta nella delibera che è la 1406 che fissa gli obiettivi sono stati indicati due obiettivi particolari il 2.1 che era raggiungere la disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per attivare tutti i letti intensivi e subintensivi cioè vuol dire 2000 ventilatori di terapia intensiva 350 ventilatori di subintensiva 1500 monitor su tutta questa cosa qui ciascuna ULTS doveva dichiarare ce l'ho oppure me la procuro entro questi termini la seconda cosa questo vi ho fatto anche un po' uno screenshot di di darvi un esempio era l'obiettivo 2.2 che era come mi attivi questi letti in pratica abbiamo chiesto da News di dire dove li mettevano questo da letto 1 al letto 1000 dove li mettevano come facevano a recuperare il personale per attivare i letti aggiuntivi perché questo è il vero problema che per arrivare ai miei letti bisogna prendere il personale che fa altre cose e va messo e quindi qui letto per letto abbiamo la planimetria con il punto esatto e la numerazione sulla planimetria che lo vedete e abbiamo anche un dettaglio una specie di foglio Excel dove è scritto se quel letto è accitivabile in che tempi e con che operazione è necessaria in termini di riduzione di altri servizi per andare ad aprirlo questo è quello che riguarda i famosi mille letti quindi se mi chiedete se oggi sono tutti attivi la risposta è no perché attivare i mille letti vuol dire bloccare qualsiasi altro tipo di attività escluso le gravi emergenze sono letti attivabili oggi siamo arrivati ad avere 600 circa 640 letti attivi tutte le mattine facciamo il punto della situazione in alcune us dove l'occupazione era maggiore hanno già attivato il 100% dei riconvertibili altri stanno ancora attivando i letti creu su questo proprio perché vogliamo contemporaneamente cercare di ridurre al minimo l'impatto sulle cure ordinarie non abbiamo detto chiudete tutto e aprite tutto come abbiamo fatto a marzo perché non sapevamo cosa sarebbe successo ma stiamo dicendo ok continua pure a fare qualcosa ma guarda continuamente come funzionano i cursori di occupazione se vedi che si stanno esaurendo i posti liberi entro 24 ore apri altri letti questo è il messaggio dato ai direttori generali quindi stiamo lavorando su un modello che cresce continuamente man mano che dovesse crescere la richiesta detto questo passiamo alla richiesta vi avete l'andamento delle curve dei ricoverati vedete che ci sono alcune province stabili altre che hanno un po' di aumento la siccoletta che ti hanno dato su quello ce l'hai sì quella lì vedete che sono le varie province come come si stanno muovendo vedete anche che l'andamento è un po' altalenante è un po' altalenante perché perché sostanzialmente noi abbiamo un numero importante di ingressi la prima di là ah no adesso siamo già sul sì passiamo la prima è l'andamento vedete che l'andamento è rovescia che l'andamento non è una crescita stabile ma sono delle curve che salgono e scendono chiaramente con un trend che dopo vedremo che non è un trend di sicurezza nella diapositiva dopo vedete le barre dei pazienti che entrano e vedete la linea verde di quelli che escono allora lì avete l'idea chiara che oggi i posti letto restano sostanzialmente stabili quelli occupati o crescono di poche unità perché non perché non ci siano ingressi ma come dicevamo l'altra volta perché le uscite compensano le entrate quindi abbiamo pazienti che escono purtroppo molti escono deceduti e altri escono in reparto e anche qui c'è un purtroppo perché molti escono con danni polmonari gravi cronici che sicuramente richiederanno ulteriori ricoveri in futuro e se andate alla tabella successiva vedete gli ingressi dell'ultima settimana da un minimo di 21 giorno 12 a un massimo di 34 persone lo capite che ricoverare ogni giorno dai 20 ai 30 persone è uno sforzo importante dottore posso chiedere solo un chiarimento sulla lettura del primo grafico che ci ha mostrato nell'asse delle ordinate i numeri vanno letti come percentuali di occupazione autis come numeri assoluti di posti occupati verona oggi ha 96 pazienti in terapia intensiva covid purtroppo se no che si scriverasse il 100% ok e idem la seconda tabella quella con gli istograndi la seconda va sempre vista come numeri assoluti grazie sono sempre numeri assoluti lo stesso è la tabella quella è la tabella con i numeri degli entrati che vedete in rosso contro gli usciti gli usciti sono la somma di dimessi più deceduti ovviamente però invece la differenza tra entrati e usciti è la differenza quel giorno lì il giorno 7 abbiamo avuto più 2 in terapia intensiva giorno 8 più 12 ok e la differenza è sempre esatto il giorno 10 abbiamo avuto meno un letto occupato quindi noi oggi normalmente guardiamo all'occupazione dei letti vi diciamo 350 occupati ma quei 350 sono la somma dei 23 che ieri sono entrati e dei 18 che sono usciti questo è e in questo momento siamo in una fase di equilibrio abbiamo oggi 587 letti occupati tra l'altro quando io dico oggi vi dico la fotografia istantanea che ho fatto mezz'ora fa magari adesso sono 585 590 perché ecco questo è un aspetto che vorrei ricordarvi siamo una delle poche regioni che da marzo tutti i giorni monitora in tempo reale l'andamento di posti letto di terapia intensiva quindi noi dal 7 di marzo sappiamo giorno per giorno e anzi direi minuto per minuto l'occupazione dei posti letto di tutta la terapia intensiva della regione su questo abbiamo un monitoraggio continuo 587 587 sì è chiaro che non stiamo sbagliando numeri e 209 pazienti ordinari questi 209 sono quelli affetti da altre patologie che ovviamente continuiamo a curare tenete presente che nel che a marzo eravamo arrivati a 160 quindi vuol dire che avevamo proprio ridotto tutto cosa sta cambiando relativamente l'accesso in terapia intensiva allora la percentuale sui positivi sulle persone scolte positive sta un po' diminuendo quindi se la stima la scorsa vi ho detto che 1 su 200 andava in terapia intensiva oggi la fotografia è di 1 su 250 che ci sta con il fatto che probabilmente peschiamo più positivi e quindi la percentuale di quelli che andava in terapia intensiva è un pochino minore peschiamo più positivi e sintomatici la novità rispetto a marzo è che abbiamo pazienti più gravi in terapia intensiva perché a marzo la percentuale di subintensiva era molto bassa oggi invece chi arriva in terapia intensiva ha un quadro mediamente più grave questo spiega anche una mortalità più alta sulla mortalità il 10% ha meno di 70 anni gli altri ne hanno di più però torniamo al solito discorso che le percentuali basse di numeri alti fanno numeri alti e allora il 10% può sembrare poco ma il 10% di 5.000 fa 500 morti quindi 500 persone con meno di 70 anni sono morte per coronavirus e moltissimi non avevano comorbidità a notte quindi era persone in perfetta salute altro cambiamento rispetto a marzo il periodo mentre a marzo abbiamo avuto un picco improvviso qui scusate scusi no no ho capito mentre a marzo abbiamo avuto un picco che ha portato rapidamente all'aumento dei ricoveri qui abbiamo avuto un'ascesa molto più lenta la differenza è che mentre fino al 31 agosto avevamo ricoverato 848 pazienti in tutto in terapia intensiva dal 31 agosto oggi ne abbiamo ricoverati 1436 qui nella seconda fase abbiamo ricoverato molti più pazienti in terapia intensiva per un periodo molto più lungo e qui di nuovo voglio stolineare l'enorme carico di lavoro che questo determina sui medici e sugli infermieri e sugli operatori di terapia intensiva perché questi pazienti hanno bisogno di un'assistenza continuativa vanno assistiti con particolari precauzioni per proteggere il personale quindi il personale nostro sta facendo un lavoro veramente mostruoso e per un periodo di tempo molto prolungato questo è un altro degli aspetti che ci preoccupa perché al di là della disponibilità dei letti che non si consumano il personale ovviamente invece soffre di questa cosa e uno dei motivi per cui temiamo della sostenibilità qualora dovesse continuare una crescita esponenziale è anche il fatto della tenuta del personale su questo fronte perché non si può chiedere oltre un certo livello al personale credo che vi sia nella vostra nell'ultima pagina la vostra documentazione la curva normalizzata che è quella che ci dice se non c'è poi la mostecola si c'è da qualche parte e lì vedete che la curva sembra piattirsi sembra portarci verso una cambio dipendenza ma di fatto invece poi ci sono giorni in cui diminuisce ma giorni in cui torna a crescere e quindi di fatto in questo momento è una curva quasi piatta ma che non accenna a diminuire anche oggi abbiamo più 4 letti occupati e quindi di nuovo non siamo fuori dalla situazione critica credo di aver detto tutto grazie dottorosi come sempre chiarissimo ed esaustivo Bonet Moscati Tosatto per ora ok un po' di chiarimenti sui numeri dottor Rosial se possibile allora cerco di ricapitolare perché mi sono un po' noi siamo partiti quindi da una dotazione di 500 posti letto terapia intensiva 500 spaccati no 500 erotti 500 erotti poi ci sono i 191 del CREU pronti ma chiusi a chiave poi ce ne sono 90 di convertibili che quindi non sono pronti sono immagazzinati si erano perché alcuni sono stati già aperti e a questi si sono aggiunti altri 167 posti letto di subintensiva riconvertita esatto ok questa è la dotazione del Veneto i 211 di Arcuri mi pare che non sono mai esistiti né in realtà no perché Arcuri ha dato il via a iniziare i lavori tra l'altro incaricando i direttori generali di essere soggetti attuatori qui c'era tutta una partita che era quella soggetti attuatori commissariamenti eccetera sono incaricati se la regione soggetto attuatore non è un commissario insomma per tutti ogni singolo direttore generale pescando quindi noi facciamo i lavori i direttori generali organizzano i lavori pescando però dagli elenchi del materiale dalle ditte che sono state individuate dal commissario Arcuri elenchi e materiali che sono arrivate se non erro a fine ottobre perché hanno chiuso le procedure nazionali non esistono ok per nessuna regione perché comunque quelle prevedevano adesso i direttori generali stanno incaricando però per capirci quelli diventano strutturali cioè facciamo un esempio che mi sembra che possiamo fare a Feltre mi sembra no? che era quello della sala operativa del vecchio blocco sì o a Mirano dove verrà costruita una terapia intensiva completamente nuova oppure a Feltre dove c'è stato fatto il nuovo blocco operatorio quindi verrà recuperato il vecchio blocco operatorio diventerà strutturale come terapie intensive nuove ok? per capirci dopodiché di questa dotazione esistente quindi queste non li contiamo proprio esatto questo è il punto a cui volevo arrivare della dotazione esistente somma dei gruppi che ho detto prima ne sono attivati attualmente 6,40 pronti e occupati 5,87 sì quindi ok adesso invece ho una domanda sul personale questi 640 posti letto attivi hanno personale sufficiente a farli funzionare tutti i letti attivi noi li indichiamo come attivi nel momento in cui c'è il personale seduto in fianco al letto che aspetta il paziente quindi vuol dire un infermiere ogni due posti letto e un anestesista ogni 8 10 a seconda scenario apocalittico da 6,40 bisogna salire i 1000 questi 360 di differenziale avrebbero il personale attualmente per farli funzionare allora come vi ho detto nei piani di lavoro presentati dalle aziende è individuato il personale che va ad attivare questi letti nel caso di bisogno sì chiaro che su questo dovremo un po' derogare sullo standard nel senso che l'infermiere che deve seguire un paziente in un letto subintensivo riconvertito sarà un letto un'infermiere subintensiva adesso è chiaro che il letto c'è però è questo è un obiettivo che raggiungiamo in condizioni di gravissima emergenza quando dobbiamo utilizzare tutte le risorse disponibili ma peraltro come è avvenuto in tutte le regioni durante le fasi ipercritiche insomma cioè noi dico una sciocchezza se dico che poi in realtà sposti dall'attività ordinaria lì sposti lo stesso noi blocchiamo di conseguenza attività ordinaria nello specifico chirurgica vogliamo fare l'esempio l'azienda ospedaliera di Verona l'avete scritto sui vostri giornali siccome è una situazione sicuramente un po' più di emergenza ha contratto ancora di più l'attività chirurgica rispetto le 30 sale chirurgiche mi sembra che ci sono proprio per andare incontro le esigenze di avere personale da dedicare quindi questo sarebbe quello che succede Marco Borgo Roma scusa Borgo Roma ok sì chiaro che il messaggio non deve essere che è una passeggiata arrivare a mille mille è una catastrofe per la sanità è che siccome tutte le polemiche riusciamo a gestire ma con gli ospedali completamente bloccati che non fanno altro certo no no è che siccome tutta la polemica da cui si riferiva il presidente sul tema delle terapie intensive diciamo così dopate deriva dal fatto da un lato di posti letto sì che ci sono ma in realtà non ci sono perché non sono operativi e sul sì ci sono però mancherebbe comunque il personale per farle funzionare quindi comunque come se non ci fossero ci pare che l'abbiamo chiarito ci sono il personale è individuato si sa dove andarlo a prendere per attivarli ma ripeto non è che l'abbiamo scritto sulla carta ogni direttore generale ha fatto questa operazione nella realtà ecco dicendo che non sono opinioni ma fatti darei la parola alla collega Moscati sì buongiorno dottorosi e le chiedevo questo la prima volta che forse viene detto chiaro e tondo che il tempo di degenza è più prolungato rispetto alla prima fase perché all'inizio all'inizio della della seconda fase cioè parliamo di ottobre quando si parlava col presidente se non erro c'era stato detto che tutto sommato questa questa seconda fase vedeva delle degenze meno prolungate e c'era anche c'era anche questa eh cure parliamo di plasma o di altre cose che determinavano questa minore eh diciamo degenza questa possibilità adesso ci viene no mi sono espresso male io probabilmente io non ho parlato di degenza adesso ve ne parlo però non parlavo della degenza parlavo del fatto che l'iperafflusso in terapia intensiva dura più a lungo cioè abbiamo un periodo di diciamo sovraffollamento della terapia intensiva per covid che se a marzo è durato un mese e mezzo sta durando tre mesi questo e in questi tre mesi abbiamo trattato mille e ottocento pazienti contro gli ottocento di prima quindi non ho detto che è cambiata la durata poi sì c'è stato un break nel quale noi avevamo uno due pazienti covid quando poi è ripresa l'epidemia abbiamo avuto l'afflusso questo l'occupazione di posti detto covid è cresciuta in maniera lenta graduale più a lungo nel tempo rispetto alla prima che invece è cresciuta di colpo e non è perché i pazienti stanno ricoverati tre mesi è che sono più pazienti ognuno ricoverato per un certo periodo per cui il turnover è veloce lo stesso veloce no quello di pazienti covid non è un turnover veloce non lo è stato nella prima fase non lo è nella seconda fase sono pazienti che restano in terapia intensiva a lungo se la degenza media di una terapia intensiva normale è intorno ai sette giorni per un paziente covid siamo tra i 14 e i 20 giorni quindi dalle due alle tre settimane abbiamo avuto all'inizio della seconda fase dell'epidemia delle degenze brevi perché in terapia intensiva entravano pazienti meno gravi non avevamo ancora le subintensive a regime quindi entravano in terapia intensiva pazienti più lievi che oggi non vediamo più adesso che la gravità è sovrapponibile a quella precedente le degenze sono quelle vanno dai 14 ai 30 giorni poi c'è la variabilità individuale ovviamente l'età incide però è difficile che uno esca prima di 15 giorni più facile che esca dopo 20 ho capito e per quanto anche se non è questo l'argomento di oggi le cure sono hanno inciso parecchio le nuove modalità di cura rispetto alla prima alla prima fase o no? hanno inciso in parte su alcuni approcci però non c'è un non è stato individuato un rimedio un po' casana per questa cosa diciamo che le cure sono un pochino più affinate consentono di controllare meglio alcune complicanze che sono diventate note durante la prima fase ma non c'è una terapia che guarisca il covid grazie Tosato sì dottore io apprezzo molto la sua chiarezza proprio da incursore della sanità le chiedo le chiedo adesso mi fa preoccupare perché lui arriva un marì un marì è uno che risolve i problemi un ardito tuttavia tuttavia mi chiedo come vanno i suoi battibecchi con i suem perché sì perché qualche qualche settimana fa c'era stato un po' uno scambio epistolare sulle ricordo magari perché non tutti hanno presente lei aveva lamentato che talvolta ci sono c'erano stati da parte da parte dei dei medici dei medici di base delle come dire c'era stato un ricorso improprio al suem cioè anziché valutare il paziente lo si rimandava lo si rinviava direttamente al suem spiego sì spiego per l'ennesima volta così spero che capiscono anche quelli che vogliono che fanno finta di non capire ma che in realtà hanno capito perfettamente è la polemica piace Rosi sì alcuni anche ci vivono si nutrono di questo in genere io personalmente cerco sempre di evitarla è un uomo è un uomo di pace chi? io? sì ma no abbiamo fatto nessuno ha accusato nessuno mettiamolo bene in chiaro nessuno si è seduto su questo tavolo o vi ha mandato un comunicato dicendo che la regione voleva fare la guerra ai medici medici generale anzi questo è il contrario rispetto agli accordi che abbiamo preso guardate che siamo l'unica regione che sta facendo tamponi con gli MMG e tutto il resto finanziando perché sapete che quella partita non è finanziata e allora partiamo dall'inizio il 118 oggi sta facendo un'azione di filtro colossale per evitare che pazienti che non hanno necessità di andare in pronto soccorso ci vadano per poi essere rimandati a casa dopo aver fatto magari 4, 5, 6, 7 ore di attesa ovviamente lasciare a casa i pazienti vuol dire che qualcun altro li prende in carico perché non gli si può dire stai a casa ed arrangiti quindi questa operazione di filtro che fa il 118 è possibile proprio perché c'è un forte coinvolgimento della medicina generale che direttamente e tramite le USCA si sta facendo carico di seguire i pazienti a domicilio che non necessariamente vuol dire visitarli ma vuol dire dargli le giuste indicazioni dare informazioni corrette se necessario invitarli a chiamare il 118 se l'attuazione si aggrava ma dopo aver valutato le condizioni quindi questa operazione di filtro del 118 che è fondamentale per la tenuta del sistema sta in piedi proprio per il ruolo fondamentale della medicina generale siccome era successo che in alcuni casi c'erano stati degli episodi in cui il 118 diceva ho purtroppo dovuto andare a casa del paziente perché il medico non andava abbiamo detto in maniera riservata comunicandolo esclusivamente al 118 per favore evidenziate questi episodi in modo che si possano prendere delle contromisure dove tra l'altro sottolineo contromisure non provvedimenti che sembra dire che gli spariamo o cose contromisure vuol dire magari verificare che quel medico non fa questa operazione perché non ha le risorse corrette non è adeguatamente informato quindi l'obiettivo della comunicazione era fate in modo che tutto funzioni regolarmente che abbiamo la garanzia che tutti siano nelle condizioni di fare quello che devono fare qualcuno ha letto che noi dicevamo che i medici non fanno il loro mestiere io credo che quella nota fosse anche a tutela di quelli che invece il mestiere lo fanno che sono la maggioranza perché non sono certo io che su facebook scrivo non trovo mai il mio medico in medicina generale non è giusto che perché c'è qualcuno che genera queste reazioni ce ne rimettano tutti i medici in medicina generale che fanno il loro mestiere quindi l'intento nostro al di là che il primo intento era di far avere al paziente l'assistenza di cui ha necessità che deve essere sempre il primo obiettivo il secondo era anche tutelare la maggior parte dei medici che fanno il loro mestiere e che non è giusto che si sentano coinvolti in una critica che riguarda una minuscola parte di loro detto questo non si può neanche negare che questa minuscola parte esista quindi i provvedimenti andavano presi tutto qua non c'era nessuna polemia con la categoria anzi c'era un apprezzamento e mi sembra che le cose comunque siano tranquillamente rientrate perché questa cosa si fa le segnalazioni vengono fatte sono comunque casi sporadici e sui quali adottiamo le contromisure necessarie quindi nessuna guerra ora sperando che non riparta la polemica è un aspiccio personale perché poi insomma mi tocca lavorare e chiudiamo qua oggi grazie grazie a tutti